Da oggi si possono togliere le mascherine all'aperto e noi l'abbiamo fatto. Era ora? Sì, effettivamente si respira meglio. Approvo il fatto di aver smesso la mascherina, anche perché all'aperto secondo me non aveva nessuna utilità. Molto, non aspettavamo l'ora che arrivasse questo momento e poi aspettiamo il resto adesso. Tutto quello che verrà è preso, torniamo alla normalità. Piano piano. Speriamo. Da oggi si potrebbe girare senza mascherine. Lei ce l'ha? Certo, perché conviene preservarsi comunque. Non siamo in una condizione di certezza e quindi non costa molto. La prudenza. Lei cosa pensa? Io penso che anche questo freddino non faccia male. Fortunatamente non lavoro e quindi per il resto quando sono a casa non la tengo, ovviamente. Probabilmente chi lavora la deve tenere tutto il giorno, ha altre esigenze. Se appena può la toglie, sono sicura di questo. Io la porto perché voglio vedere come evolverà la situazione dopo questa apertura. Se evolve come io spero e mi auguro positivamente, la toglierò anch'io. Però ancora una settimana o due la porterò. Ma è ottimista o pessimista? No, io sono ottimista, voglio essere ottimista, ciò nonostante voglio essere prudente. Da oggi si può girare senza mascherine all'aperto? Sì, sì, io lo so, lo so. Era ora? Non era ora? No, era ora, era ora. Non ne poteva più? Non faceva più respirare. Grazie.